Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale Io sono Veronica, se non ci conosciamo, se non ci conosciamo, ci conosciamo con un video outfit Outfit totalmente in verde Che è composta da questa magliettina molto molto leggera, molto fina L'unico particolare sono tutti i sbrillucci, tutti questi strass sulle spalle Che sono molto molto carini Io questo è un bel po' che ce l'ho Non mi ricordo neanche da dove l'ho presa Comunque una maglietta con le maniche corte molto molto corte Scende abbastanza avvitata, non scende dritta Invece come pantaloni ho questi qui Che sono, ero peli da abruzzese ma anni e anni fa Sono effetto camuflage, effetto militare Hanno una tascona migliante e il cavallo molto molto basso Sono comodissimi e leggerissimi Finiscono con l'elasticino ma non vi stringe la caviglia E hanno la pulisse per stringerlo in vita Quindi sono molto molto comodi Io non sopporto gli elastici troppo troppo stretti Che segnano tutto, vi strizzano Questo era l'outfit di oggi Outfit molto comodo, molto pratico Molto leggero soprattutto Perché sta iniziando a fare molto caldo Quindi devo trovare soluzioni molto leggere e molto pratiche Spero che il video vi sia piaciuto E' stato utile in qualche modo Lasciate un like e un commento qui sotto Iscrivetevi al canale che mi fa un sacco piacere Io vi mando un grosso bacio E noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao